Per la verità, ci spostiamo a Napoli, all'ospedale di Santo Bono di Napoli per parlarvi di come i genitori dei neonati con il Covid, che sono quindi evidentemente posti in reparto di terapia intensiva neonatale, possono mantenere il contatto con i loro figli, con i loro bambini appena nati attraverso una telecamera che, pensate, è posta proprio all'interno della incubatrice. Allora, ne parliamo con il dottor Antonino Di Toro, correggetemi se sbaglio, e con la mamma di un bambino che in questo momento è in terapia intensiva neonatale che si chiama Veronica Di Vaio. Buongiorno Veronica, innanzitutto le voglio chiedere come va, come sta e come sta il suo bambino. Per ora va bene, perché comunque lo vediamo sempre via web, quindi diciamo che comunque è un sollievo. Vederlo. Vederlo, così. Dottor Di Toro, ci spiega allora come funziona questo progetto, e tra l'altro nasce da un'iniziativa di beneficenza, se non sbaglio. Sì, esatto. È un progetto che stiamo implementando nel nostro reparto di terapia intensiva neonatale e neonatologia del nostro ospedale, che è nato da una donazione fatta da un'associazione gestita dal cardinale Crescenzio Seipe, che ci ha donato appunto questo impianto con dieci telecamere e stiamo proprio in queste ultime settimane cominciando a far funzionare. E ecco, questa che vedete nella nostra sala di isolamento, in cui in questo momento ci sono due neonati positivi al Covid, e queste telecamere consentono ai genitori di poter per alcune ore al giorno vedere il loro neonato in incubatrice, gestito appunto anche dal personale infermieristico, che non finiamo mai di ringraziare per l'impegno a gestire questi neonati per ore con i dispositivi di protezione individuali indossati. consente quindi di vedere questi neonati per alcune ore al giorno, nonostante i neonati siano in isolamento, e purtroppo, come spesso capita, anche i genitori siano in isolamento o in quarantena, perché poi parliamo di neonati, quindi di bambini sotto il mese di vita, che chiaramente sono infettati nell'ambito familiare, quindi quello che capita, ecco, questo è proprio quello che può vedere il genitore, ovviamente abbiamo coperto il viso del bambino, questa è esattamente l'immagine che vede il genitore da casa, attraverso un'app installata sul suo cellulare, quindi può vedere il suo bambino, normalmente anche il viso. E questo credo dia un grosso conforto a un genitore, che è a sua volta in isolamento o in quarantena, in quanto contatto stretto o anch'esso positivo, e quindi non può uscire da casa, e ha anche il bambino ricoverato in isolamento in un reparto di neonatologia. Mamma Veroni! Devo dire che per fortuna, fino a questo momento, diciamo, non abbiamo ancora visto neonati gravi, il Covid, diciamo, nel neonato fino a questo momento provoca pochi sintomi, prevalentemente febbre e diarrea. Questo volevo chiederle, poi magari torniamo da mamma Veronica, perché so, a vedere l'immagine di quel bambino, insomma, in terapia intensiva, Veronica, vengo subito da lei, ecco, insomma, non è proprio facile. Poi immagino che, insomma, sia confortante poterlo seguire sempre, no? Questo è uno straordinario esempio che quando la tecnologia viene applicata all'emergenza, insomma, i risultati sono importanti, sono d'aiuto al cittadino. Quindi immagino che guardare, vedere il suo bambino sia di gran conforto, però, insomma, mi dica come si sente lei. Io lo guardo spesso, perché gli danno la possibilità di vederlo dalle 15 alle 20, e sto lì sempre a guardarlo, anche perché comunque siamo impossibilitati anche ad andare, anche perché noi siamo genitori e abbiamo anche noi il Covid, quindi non possiamo proprio accostarci agli ospedali. E, tra l'altro, vedere anche tutti i medici che lo accarezzano, si prendono cura di lui, di tutti i bambini, è di un gran conforto. Dottor Di Toro ha detto che fortunatamente non avete i bambini neonati, diciamo, in condizioni gravi, eccetera. Però qual è la situazione del vostro ospedale pediatrico in tempo di Covid? Il nostro, appunto, è un ospedale pediatrico, quindi rispetto al Covid leggermente in seconda linea, perché, per fortuna, i bambini e i neonati non sono molto, molto, molto attaccati da questo virus e quando lo sono abbastanza raramente presentano sintomi e patologie gravi. Devo dire però che purtroppo in queste ultime settimane i contagi aumentano anche, voglio dire, a carico dei bambini e anche a carico dei neonati e quindi cominciamo a vederne sempre di più anche nel nostro ospedale in corso una riconversione di un padiglione per ospitare pazienti pediatrici con Covid e nella nostra sala di isolamento che potete vedere qui della terapia intenziale neonatale e patologia neonatale aumentano anche qui, diciamo, i casi di ricovero. Per quanto riguarda i neonati, per fortuna, in Campania, in Italia e direi anche nel resto del mondo ci sono poche segnalazioni di casi di estrema gravità. Di solito si tratta di febbre, di arrea e piccole difficoltà respiratorie ma il pericolo purtroppo è sempre in agguardo. È un dato consolante, dottore. Senta, Veronica, ha avuto modo di parlare con altre mamme? Adesso i bambini in terapia intensiva neonatale all'ospedale di cui stiamo parlando sono due ma ha avuto modo, insomma, di parlare con le altre mamme che magari sono nella sua stessa condizione? Immagino di sì. Ho solo letto dei post su Facebook però non ho parlato direttamente con alcune mamme perché i casi sono molto pochi questi qua di neonati quindi è difficile pure in questo momento parlare con altre mamme e confrontarsi. Senta, voi siete positivi al Covid ha un orizzonte, diciamo così, di quando rifarà il prossimo tampone quindi magari potrà, come dire, non rimanere più a casa magari andare anche lì all'ospedale insomma, per una madre stare lontano dal proprio bambino non deve essere facile. Stiamo aspettando l'asile che verrà a casa per fare il tampone però le liste sono tante quindi l'attesa è tanta quindi dobbiamo aspettare per ora mio marito l'ha fatto privatamente però comunque dobbiamo aspettare sempre l'asile Grazie, auguri, signora Veronica Un grande abbraccio da parte nostra e anche al suo bambino Veronica Certo, naturalmente Grazie, grazie